L'attuale capo dello Stato sloveno, Borut Pahor, non ha superato la soglia del 50% nelle elezioni presidenziali del suo paese. Quindi per l'ufficializzazione o meno di un suo secondo mandato sarà necessario il ballottaggio il prossimo 12 novembre. Pahor nella prima tornata elettorale si è affermato poco sopra il 47%. Il suo rivale numero uno, il sindaco del comune di Kamnik, Marian Sárez, è arrivato al secondo posto con il 24,96% e quindi tra tre settimane il face-off tra i due. Gli altri sette candidati sono da considerarsi non classificabili e fuori della lotta alla presidenza. Si sono recati alle urne circa 1.700.000 sloveni, una partecipazione comunque inferiore rispetto al 2012, anno della prima elezione di Pahor.